Integriamo ora Mobex all'interno del progetto Next.js creato in precedenza. Quindi creiamo un nuovo file panel Mobex in cui andiamo a inserire un nuovo componente che estende la classe React Component. Quindi inseriamo la render function che al momento ci restituirà semplicemente un testo di placeholder per verificare che il componente funzioni. Quindi ritorniamo nella nostra pagina Index.js e andiamo appunto ad includere il nostro modulo. Cerchiamo di importarlo, c'è un problema, ho dimenticato l'export default nel mio componente, quindi andiamo ad importare il componente e verifichiamo che il tutto funzioni. Quindi torniamo nella nostra home e vediamo effettivamente che la scritta Mobex panel appare proprio sotto, sotto la navigation bar. Ok, quello che andremo a fare adesso è molto simile a ciò che abbiamo creato in precedenza, ovvero creare un collapsible panel stateful. Però per farlo dobbiamo includere quindi Mobex, quindi npm install, meno meno save, Mobex, Mobex React. Includiamo le dipendenze, abbiamo dovuto killare il progetto e quindi lo riavviamo. Sta ripartendo tutto. E quindi qui andiamo a creare velocissimamente un altro componente stateful, veramente simile a quello di un video precedente che abbiamo fatto, solo che in questo caso sfrutteremo Mobex. Ecco, questa è la particolarità del video, ovvero andiamo a utilizzare un decorator observable, quindi stiamo creando, decorando la proprietà Opened con questo decoratore observable fornito da Mobex e andiamo quindi a mettere un metodo toggle che effettua il flip di questa proprietà. Andiamo a decorare anche il componente come observer, proprio come Mobex richiede, affinché possa essere la render function invocata automaticamente senza utilizzare set state manualmente e andiamo quindi ad inserire, a importare i vari decorator da appunto le librerie Mobex e Mobex React. Quindi abbiamo importato observer e importiamo observable da Mobex. Benissimo. Vediamo però che continua ad esserci un errore, un errore unexpected token. Quello che, il problema è che il progetto non supporta i decorator, quindi quello che dobbiamo fare è andare a creare un nuovo file .bable.rc che conterrà appunto i preset necessari affinché funzioni il decorator. Dobbiamo però installare un plugin con meno meno safe dev che è Babel Plugin Transform Decorators Legacy e dobbiamo quindi aggiornare questo file .bable.rc affinché funzioni. Questa parte è documentata, quindi sto seguendo semplicemente le linee guida di Next che indicano che bisogna installare il preset a Next Babel e il plugin che abbiamo appena, che ho appena installato. Il progetto chiaramente deve essere killato e deve essere quindi riavviato nuovamente con RunDev. A questo punto il progetto supporterà i decorator. Se rafresciamo non dovremmo più avere nessun problema e il nostro componente, Mobex, dovrebbe tra l'altro iniziare a funzionare. Quindi vediamo in effetti il body, vediamo il titolo. C'è un po' di confusione perché abbiamo dell'altra roba in index che andiamo a cancellare. Quindi adesso abbiamo solo il pannello di Mobex col titolo e il body. Bellissimo, esteticamente. Quindi andiamo semplicemente ad attivare quello che abbiamo fatto anche in precedenza con il componente Stateful utilizzando invece Mobex. Quindi utilizziamo in questo caso invece che le classi gli style per fare la stessa cosa. Quindi display che setteremo a null, ovvero non lo andremo a settare, piuttosto che a none nel momento in cui la proprietà opened è appunto a true o a false. Quindi come vedete tutto funziona come in precedenza. Grazie. Grazie. Grazie.